A volte, proprio nel momento in cui tutto ci sembra perduto, giunge un messaggio che ci può salvare. Abbiamo bussato a porte che davano tutte sul nulla e nella sola per cui si può entrare, e che avremmo cercata in vano cent'anni, urtiamo inavvertitamente, ed essa s'apre. Volgendo nell'animo i tristi pensieri di cui orora parlavo, ero entrato nel cortile del palazzo Germantes, e assorto come ero in essi, non m'ero accorto di un'automobile che stava avanzando. Al grido dell'autista, ebbi appena tempo di scansarmi bruscamente, e indietreggiai tanto da inciampare mio malgrado contro i ciottoli mal livellati, dietro i quali si trovava una rimessa. Ora, nel momento in cui, per recuperare l'equilibrio, posai il piede su un ciottolo un po' meno rialzato del precedente, tutto il mio scoraggiamento svanì, di fronte alla medesima felicità, che in momenti diversi della mia vita, mi avevano procurato la veduta d'alberi che avevo creduto di riconoscere in una passeggiata in carrozza nei dintorni di Balbech. La vista dei campanili di Martinville, il sapore di una Madeleine inzuppata in un infuso, e tante altre sensazioni, di cui ho parlato, e che le ultime opere di Ventul l'erano parse sintetizzare. Come nel momento in cui stavo assaporando la Madeleine, ogni apprensione per l'avvenire, ogni dubbio intellettuale si dissipò. I dubbi che poco prima mi avevano assalito sulla consistenza dei miei doni letterari, e anzi sulla consistenza della stessa letteratura, scomparvero come per incanto, senza che avessi trovato nessun ragionamento nuovo, né trovato nessun argomento decisivo, Le difficoltà ancora pochi istanti prima insolubili avevano perduto ogni importanza, ma questa volta mi ripromettevo fermamente di non rassegnarmi a ignorarne il perché, come avevo fatto invece il giorno in cui avevo assaporato una Madeleine inzuppata in un infuso. La mia felicità di ora, infatti, era pur la medesima da me provata in quell'occasione, e di cui avevo allora rinunciato a ricercare le cause profonde. L'unica differenza puramente materiale consisteva nelle immagini evocate. Un azzurro profondo mi inebriava la vista, impressioni di freschezza, d'abbagliante luce volteggiavano intorno a me, e, ansioso da ferrarle, senza osar di muovermi, come quando gustavo il sapore della Madeleine, tutto intento a cercare di far giungere fino a me ciò che essa mi richiamava, rimasi a titubare, come avevo fatto poco prima, col rischio di far ridere l'innumerevole folla di autisti, con un piede sulla pietra più elevata, l'altro su quella più bassa. Ogni volta che rifacevo solo materialmente quel medesimo passo, esso mi restava infruttuoso. Ma se riuscivo, dimenticando la mattinè dei Germantes, a ritrovare quel che avevo sentito, posando così i miei piedi, di nuovo la visione abbagliante e indistinta mi spiorava, come per dirmi, coglimi al volo, se ne sei capace, e studiati, enigma di felicità che ti propongo. E quasi subito la ravvisai. Era Venezia, di cui nulla mi avevano mai detto i miei sforzi per descriverla e le pretese istantanee della mia memoria, e che la sensazione da me, provata un giorno su due lastre diseguali del Battistero di San Marco, mi aveva restituita, insieme a tutte le altre sensazioni connesse a lei in quel giorno, e rimaste in attesa, al loro posto, nella schiera dei giorni dimenticati, dove d'improvviso il caso le aveva tratte imperiosamente. Allo stesso modo, il sapore della Madeleine mi aveva ricordato Combré. Ma perché mai le immagini di Combré e di Venezia mi avevano dato, nell'un momento e nell'altro, una gioia simile a una certezza e sufficiente, senza altre prove, a rendermi indifferente la morte? Mentre me lo domandavo, ormai risoluto a trovare la risposta, entrai nel Palazzo Germantes, giacché ognuno di noi dà sempre la precedenza, rispetto a un proprio intimo impegno, alla parte esteriore che recita, e che per me quel giorno consisteva nel farlo invitato. Ma, giunto al primo piano, un maggiordomo mi pregò di entrare un momento in un salottino biblioteca, attivo al buffet, e di aspettare lì la fine del pezzo che stavano suonando, dato che la principessa aveva proibito di aprire le porte durante la sua esecuzione. Ora, in quello stesso momento, un secondo avvertimento, venne a rafforzare quello datomi dalle pietre diseguali e a esortarmi a perseverare nel mio proposito. Un domestico, nei suoi infruttuosi sforzi per non far rumore, aveva urtato un cucchiaio contro un piatto. Fu invaso dallo stesso genere di felicità che mi aveva andata ai ciottoli diseguali. Erano anche questa volta sensazioni di grande calura, ma affatto differenti, miste a un odore di fumo temperato da un fresco odore d'alberi. E io mi accorsi che quanto mi sembrava ora così gradevole era il medesimo filare d'alberi che avevo giudicato noioso da osservare e da descrivere, e davanti al quale, in atto di sturare la bottiglia di birra che avevo con me in treno, avevo per un istante creduto di ritrovarmi in una specie di allucinazione, tanto il rumore, identico, del cucchiaio contro il piatto, mi aveva andato, prima che avessi avuto il tempo di riavermi, l'illusione del rumore della martellata d'un ferroviere su una ruota del vagone, per aggiustar non so che cosa, mentre ci trovavamo fermi davanti a quel boschetto. E in vero si sarebbe detto che i segni che dovevano ottrarmi quel giorno dallo scoraggiamento per ridonarmi la fede nella letteratura volessero moltiplicarsi, perché un maggiordomo, che era da un pezzo al servizio del principe di Germantes, avendomi riconosciuto e portato nella biblioteca dove mi trovavo, per evitarmi di andare al buffet, un piatto di pasticcini e un bicchiere d'aranciata, ma venne d'asciugarmi la bocca col tovagliolo che egli mi aveva dato. E di colpo, come quel personaggio delle mille e una notte, che senza saperlo compiva precisamente il rito, capace di far apparire, visibile a lui solo, un docile genio pronto a portarlo lontano, «Una nuova visione, d'azzurro», balenò davanti ai miei occhi. «Un azzurro, questa volta, puro e salino, che si gonfiava in mammelle bluastre». Fu un'impressione così forte, da farmi sembrare attuale l'attimo che stavo rivivendo. E, più stordito del giorno in cui me l'ho domandato, se davvero sarei stato ricevuto dalla principessa di Germantes, o se piuttosto non sarebbe sprofondata ogni cosa, credetti che il domestico avesse in quel momento aperta la finestra sulla spiaggia, e che tutto mi invitasse a scendervi e a passeggiare lungo il molo durante l'alta marea. Il tovagliolo da me preso per asciugarmi la bocca aveva precisamente la stessa inamidata rigidezza dell'asciugamano, col quale avevo tanto stentato ad asciugarmi dinnanzi alla finestra il giorno del mio arrivo a Balbech. E adesso, davanti alla biblioteca del palazzo Germantes, esso dispiegava, spartite nelle sue pieghe e piegoline, le piume ad un oceano verde e turchino, come la coda d'un pavone. E io non gioivo soltanto di quei colori, ma di tutto un momento della mia vita che li suscitava, che era stato certamente un'aspirazione a loro, momento di cui qualche senso di stanchezza o di tristezza mi aveva forse impedito di gioire a Balbech, e che ora, spoglio di quanto c'è di imperfetto nella percezione esteriore, puro e disincantato, mi colmava di allegrezza. Il pezzo che stavano suonando poteva terminare da un momento all'altro e io potevo essere costretto a entrare nella sala. Perciò mi sforzavo di vedere chiaro, il più presto possibile, nella natura dei piaceri identici, che per tre volte in pochi minuti avevo provati, e di trarne poi l'opportuno insegnamento. Sull'enorme divario, tra l'impressione reale che abbiamo avuta di una cosa e l'impressione fittizia che ce ne forniamo, allorché torniamo volutamente a rappresentarcela, non mi soffermai, ricordando molto bene con quale relativa indifferenza Chuan aveva potuto parlare dei giorni in cui era amato, perché sotto questa frase egli scorgeva qualcosa di diverso da essi e il subitaneo dolore che gli aveva causato invece la piccola frase di Wintel restituita gli quei giorni stessi, quali li aveva allora vissuti. Comprendevo chiaramente che ciò che la sensazione dell'astricato ineguale, la ruvidezza del tovagliolo, il sapore della Madeleine, avevano risvegliato in me, non aveva nessun rapporto con quanto cercavo spesso di ricordare di Venezia, di Balbeche, di Combré, col solo ausilio di una memoria uniforme. E capivo come la vita possa essere giudicata mediocre, anche se in certi momenti sia apparsa così bella, perché la si giudica e deprezza in base a tutt'altra cosa che lei stessa, a immagini che di lei nulla conservano. Piuttosto, notavo in via accessoria che la differenza fra ognuna delle impressioni reali, differenze che spiegano perché una pittura uniforme della vita non possa riuscire somigliante, era dovuta probabilmente a questo, che la menoma parola da noi detta in un certo momento della nostra vita, il più futile gesto da noi compiuto, era circonfuso, portava su di sé reverbero di cose che, logicamente, non avendo attinenza con lui, ne sono state separate dall'intelligenza, che di esse non sapeva che farsi ai fini del ragionamento, ma in mezzo alle quali. Qui, roseo riflesso del crepuscolo sul muro fiorito di un ristorante campestre, sensazione di fame, desiderio delle donne, piacere del lusso, là, volute azzurre d'un mare mattutino, avviluppante frasi musicali che ne emergono in parte come le spalle delle ondine. Il gesto, l'atto più semplice, resta chiuso come in mille giare sigillate, ciascuna delle quali si è riempita di cose d'un colore, d'un odore, d'una temperatura assolutamente differenti. Senza dire che tali giare, disposte lungo la cresta dei nostri anni durante i quali non abbiamo smesso di mutare, sia pur soltanto nei nostri sogni o pensieri, sono situate ad altezze molto diverse e ci danno la sensazione di atmosfere singolarmente variate. È vero che quei cambiamenti li abbiamo compiuti in modo insensibile, ma tra il ricordo che torna a noi d'improvviso e il nostro stato presente, così come tra due ricordi di anni, di luoghi, di ore differenti, la distanza è tale da bastare da sola, indipendentemente da ogni specifica originalità, a renderli incomparabili gli uni con gli altri. Sì, se il ricordo, grazie all'oblio, non ha potuto contrarre nessun legame, gettare nessun ponte tra sé e il momento presente, se è rimasto nel suo proprio luogo, alla sua propria data, se ha conservato le distanze, il suo isolamento nella profondità di una valle o sulla vetta di una montagna, esso ci fa di colpo respirare un'aria nuova, nuova proprio perché è un'aria che si è già respirata in passato, quell'aria più pura che in vano i poeti hanno tentato di far regnare in paradiso e che non potrebbe darci questa sensazione profonda di rinnovellamento se non fosse già stata respirata perché i veri paradisi sono i paradisi che abbiamo perduti e di passata notavo che l'opera d'arte che io ormai mi sentivo pronto a iniziare pur senza essermici consapevolmente risolto avrebbe presentato grandi difficoltà infatti ne avrei dovuto eseguire le successive parti in una materia che sarebbe stata volta per volta molto diversa ai ricordi delle mattine in riva al mare o di pomeriggi veneziani sarebbe occorsa una materia ben differente da quella adatta a descrivere certe sere di rive belle in cui nella sala da pranzo aperta sul giardino l'odore diurno cominciava a disintegrarsi a condensarsi a depositarsi e un ultimo lucore accendeva ancora le rose sui muri del ristorante mentre gli ultimi acquarelli del giorno erano ancora visibili in cielo una materia distinta nuova di una trasparenza di una sonorità speciali compatta rinfrescante erosea sorvolavo rapidamente su tutto ciò più impenosamente sollecitato com'ero a cercare la causa di quella felicità del carattere di certezza con cui essa si imponeva ricerca in passato sempre procrastinata ora tale causa mi pareva di indovinarla comparando tra loro le diverse impressioni di felicità le quali avevano in comune questo che io le provavo a un tempo nel momento presente e in un momento lontano si da far interferire il passato sul presente da rendermi titubante nello stabilire in quale dei due mi trovassi in vero l'essere che in me derivava allora tale impressione la derivava in ciò che essa aveva di comune in un giorno trascorso e nel momento presente in ciò che aveva di extratemporale un essere che compariva solo quando per una di tali identità tra il presente e il passato gli era possibile trovarsi nell'unico elemento in cui gli è dato vivere e gioire dell'essenza delle cose ossia fuori del tempo questo spiegava come le mie inquietudini riguardo alla mia morte fossero cessate nello stesso momento in cui avevo riconosciuto inconsciamente il sapore della Madeleine dato che in quel momento l'essere che io ero stato era un essere extratemporale e quindi incurante delle vicissitudini del futuro tal essere non era mai venuto fino a me mai non mi si era manifestato se non fuori dell'azione dell'immediato godimento ogni qualvolta il miracolo di un'analogia mi aveva permesso di sottrarmi al presente solo lui aveva il potere di farmi ritrovare i giorni remoti il tempo perduto di fronte al quale gli sforzi della mia memoria e della mia intelligenza erano sempre falliti e forse se poco prima mi era sembrato che bergot avesse preso un abbaglio parlando delle gioie della vita spirituale questo era accaduto perché in quel momento chiamavo vita spirituale ragionamenti logici che non avevano nessun rapporto con essa con ciò che esisteva in me in quel momento esattamente come avevo potuto giudicare noiose la società e la vita perché le giudicavo in base a ricordi ingannevoli mentre provavo un tale appetito di vivere adesso che un autentico momento del passato era rinato in me in tre riprese solo un momento del passato molto di più forse qualcosa che comunque sia al passato sia al presente è molto più essenziale di entrambi quante volte nel corso della mia vita la realtà mi aveva deluso perché nel momento in cui la percepivo l'immaginazione che era l'unico organo di cui fossi dotato per godere la bellezza non poteva applicarsi ad essa per quell'inflessibile legge la quale vuole che soltanto le cose assenti siano immaginabili ed ecco che d'improvviso l'effetto di quella dura legge veniva neutralizzato sospeso da un meraviglioso espediente della natura che aveva fatto balenare una sensazione un rumore identico del cucchiaio e del martello medesimo titolo di un libro eccetera in pari tempo nel passato il che permetteva alla mia immaginazione di gustarla e nel presente in cui la scossa effettiva subita dai miei sensi a causa del rumore del cucchiaio del contatto con il tovagliolo eccetera aveva aggiunto ai fantasmi dell'immaginazione ciò di cui essi sono abitualmente privi l'idea di esistenza e grazie a questo sotterfugio aveva permesso al mio essere di cogliere di isolare di fermare per la durata di un lampo ciò che di solito esso non cattura mai un frammento di tempo allo stato puro l'essere che in me si era ridestato quando con un tal fremito di felicità avevo udito il rumore comune a un tempo al cucchiaio che tocca il piatto e al martello che batte sulla ruota o quando sotto il mio piede avevo sentito nel cortile dei Germantes la stessa diseguaglianza che era nell'astricato del battistero di San Marco un tale essere si nutre soltanto dell'essenza delle cose e solo in essa trova il suo alimento le sue delizie esso langue nell'osservazione del presente in cui i sensi non sono in condizione di recargiela nella contemplazione di un passato che l'intelligenza gli disseca nell'attesa di un avvenire che la volontà costruisce con frammenti di presente e del passato cui toglie inoltre un poco della loro realtà conservando di essi soltanto quanto conviene al fine utilitario strettamente umano che essa loro assegna ma basta che un rumore un odore l'audito respirato una volta lo siano di nuovo a un tempo nel presente e nel passato reali senza essere attuali ideali senza essere astratti perché subito l'essenza permanente e ordinariamente nascosta delle cose venga liberata e perché il nostro vero io che talvolta sembrava morto da un pezzo ma che non lo era intimamente si desti si animi ricevendo il celeste nutrimento che gli viene offerto un attimo affrancato dall'ordine temporale ha ricreato in noi per percepirlo l'uomo affrancato dall'ordine temporale e che costrui confidi nella propria gioia è comprensibile anche se il semplice sapore di una madeleine non sembri logicamente contenere i motivi di tale gioia come è comprensibile che la parola morte non abbia più senso per lui situato fuori del tempo che mai dovrebbe temere dell'avvenire all'avvenire Grazie.